Ti capite? Cosa? Ah eccolo, ciao caro! Oi, salve! Allora, chiudo la live, aspetta che non sto capendo. Sì, ti conviene. No, ma basta togliere l'audio se riesco però. Ok, ok, adesso sto capendo che sta succedendo. Sì, prima avevi messo il limite stanza a 10, per quello la ruma era piena. Non sono più a vezza, è un po' che non entro su sta cosa. Per avere più utenza ti conviene metterla, tipo di solito, in maniera che la stanza diventi gialla. Tipo se sei a 21 puoi metterlo a 30, a questo punto la stanza diventa gialla. Ah ok, ha senso. Ora siamo a 21. Se metti nel nome room, tipo diretta Twitch, magari persone si interessano, poi si iscrivono al tuo canale, eccetera. Ah, no vabbè, non sono qui per spammarmi. E poi c'è lì ai diamanti, quindi è inutile che fai la... insomma. Eh no, mi servono a 50 crediti, mi dice, guarda. Sì, no, lo so, lo so. Maledetti. Ma perché te ne fai? Voglio il VIP. Il VIP. E il VIP e l'HC ormai si sono unificati, non ci sono differenze. Ah ok. Buono sapere. Quanto costa adesso i crediti, vediamo? 50 crediti? Non ti parla se li vuoi comprare onestamente o dal mercato nero, diciamo. Mercato nero. Secondo te perché sono stato bannato a vita? No, perché... Che hai combinato? Diciamo che le hub away sono un po' limitanti, cioè tipo, a parte adesso hanno vietato il poker, le scommesse, tutte queste cose qua. Tipo un pro di hub, sì sì, eccolo vero raga. Raccontaci che tu avevi tipo tutte queste stanze, tutti i labirinti e cose. Ah beh, questa senza dubbio, se vuoi vi faccio anche visitare qualcosa. Eh, andiamo. Ma tu c'hai gli accessi con questo account? Diciamo che le stanze sono aperte e di molte ho i diritti, quindi... Eh, è male. Che sfiga però che ti hanno bannato. Che merda. Eh, lo so, è successo tipo un anno fa, tipo 30.000 euro di roba è mandata a puttane, però va bene. Minchia. Vabbè, non che ci avessi speso sempre così tanto, però se vi va posso portare le persone a provare una stanza, un labirinto. Se vuoi ti faccio vedere il nuovo labirinto che probabilmente non l'hai provato e... Andiamo a vedere. Andiamo a vedere raga. Che come ha fatto a farsi bannare? Eh, l'ha spiegato Fitz. Comunque c'è tutto un bel video su YouTube se cercate Stin Abbo bannato, cioè c'è il mio canale, vi guardate. Ci sono io vestito da Stin in reale con la parrucca, abbastanza ridicolo, però va bene. 100.000 euro, è po' la tassiera che costano ste robe. Io... Eh, sai come trovarmi? Cerca Stin nel navigatore. Aspetta. Oddio, sono uscita male. No, aspetta, non ho in stanze. Ok, sì. Cerchi Stin. Aspetta. Spero altro... Ok, no. Tu su tutte le... Vai su tutte le stanze. Radele di caselle? Scrivi stai. Va bene, così. Mi trovi, il nuovo labirinto. Ah, il nuovo labirinto. Sono andata in Banzai, aspetta. Vuoi fare i punti? Vuoi stare lì, eh? Mamma mia, che filse. Buongiorno, ciao Dani. Bella Lourdi Stin, hai visto? Compro la Katie al mercato nero. Ma come è che... Io non ho mai sentito questa roba di mercato nero dei crediti. Ero un hub. Riccardo. Una blanche. Te di che anno sei? Dici su hub? No, in generale. Eh, sapessi. Quanti anni mi dai, sentiamo. Boh, quanti anni ti do? Di carcere o di età? Allora, intanto sei riuscita a trovarmi? Aspetta. Perché tipo i tuoi fan mi sa che sono arrivati, tu ancora... Ma dove stai? Tu non vuoi labirinto? Sì. Eh sì. Stavo in Banzai. Che peraltro c'è tipo, vedendo il look, quando ti ho visto, lì pensavo fossi un uomo, però vabbè. No, no, sono fiera, o no, non è vero. Rip. Poi ho visto le poppe dell'Avatar, le poppe della live, ho detto vabbè... Hai visto? Sono già nel gruppo. Ah, ok, buono. Eh, insomma, no, non saprei di che anno ti posso dare. Sentiamo. Eh, novantadue. Boh, cazzo adesso. Eh, sapessi. Zan zan zan. Nessuno sa la mia età. Penso che si sia scritto da qualche parte dai. Nessuno sa la mia età. Sei sicura? Sicura. Ma come funziona se ti taglio... È un 2002. ...il busto, vedo i cerchi, gli alberi, come funziona. No, non ancora, non c'è ancora questa cosa. Mi dispiace. Va bene, vediamo se intanto riesce a superare il livello 1. No, io sono negata, io perdevo sempre. Io mi avevo in una stanza infamissima, dove mi imbloccavo sempre, erano tipo dei sedili, tu devi cliccare bene, non so se hai presente o quale. Sì, vecchio labirinto, tipo. Eh, lì crepavo sempre male, le bestievi. Una volta l'avevo superato con un mio amico, ci giocavamo spesso e poi siamo morti. Allora, hai capito, quelli verdi sono di checkpoint, ok? Ricordati che in Aval, su Swabbo, puoi andare anche in diagonale, ok? Ah, giusto, è vero. Quindi se tu premi direttamente tipo la casella verde in determinate situazioni, puoi arrivare, diciamo, nel punto di sicurezza più facilmente. Ok, ok. E com'è che crepo? Se mi arriva il drago? Se il drago ti colpisce, perché loro sono settati con l'insegui, in pratica, che sono dei wired abbastanza nuovi, relativamente, insomma. Non so, a te da quanto è che non giochi? Davvero tanto, credo 5 anni, non lo so, 4, ma non lo so, di più. Ma tipo l'anno scorso? Ero entrata così proprio per cazzeggiare a caso, ma tipo dal telefono. Ah, ok, poi hai detto, ma facciamoci una live. Sì, perché c'è il disagio vero, ci piace il disagio. Ora io non conosco bene Twitch, come funziona, cioè, ad esempio non riesco a capire quanta gente è online o altro, però vabbè. Adesso 160, mi dice. Dove sta scritto? Boh, per curio. In basso c'è tipo spettatori, dove c'è la scritta russa. Ah, ok, ok, visualizzazioni totali, ah, ok. Anche io un tempo facevo delle dirette quando c'era più utenza su sto gioco. Ui, sono morta! Boh, per i numeri. Ritza. Non lo so, io però sono necrofilo, sappio. Comunque. Non ho capito. Sei giovane ingenuo, meglio così. Allora, sappi che in quella casella dove eri prima, non puoi essere colpita, se tipo... Quella verde? A parte quella verde, è un trucco tipo... Continua a crepare, figa, cioè vado. Se mi metto qua dove sono, vedi? In realtà i draghi non mi possono venire addosso. Ah. Perché è una questione di posizionamento strana, che tipo si rimbalzano. Ora, tipo te, vedi, tac. Ora, anche se ci sono io, basta che tu vai sulla porta a vetri e diciamo che si... Comunque ti protegge. Ma sono morta! Ah no? No, no. Ok. Perché anche qualora venissi colpita, il Wired ti riteletrasporta successivamente. Adesso, ti spiego il trucco. In questo caso, parti e vedi come va. Se trovi il momento giusto... Ah, tu va un po' a culo anche. Perché sono morta adesso, ad esempio? Chi mi ha colpito, scusami? Il drago bronzo, non mi sa. Cioè no, non era bronzo, vabbè, è rosso. Sono molto incazzata, sinceramente. Io sono incazzata? Labyrinthi di merda. Vabbè, dai, dopo i 50.000 Young troveremo i 50 crediti. Mamma mia. E tu davvero davi crediti alla gente che vinceva? Sì. Questo si vince 200 crediti in questo labirinto. Minchia. Però come vedi, c'è tipo, se guardi la stanza, noti che pochi giorni prima del ban aveva abbastanza capitale. Sti draghi valgono parecchi soldi. Eh, infatti, sì, non mi ricordo. C'è pure i lingottini sparsi a caso, le mazzetti di crediti. Vabbè, questi rispetto alla room sono briciole. Però c'è tipo, vedi, il drago bronzo, il drago argento. C'ho i sordi, figa. Ciao, eh, Max. C'erano prima del ban. E su questo account non ce li hai? Non hai... C'ho tipo delle room del museo, eccetera. Però già non ho i raroni, diciamo. Dai, 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 corri. Puoi farcela. Ti dico io quando partire, ok? Devi aspettare il momento proposto. Vedrai che clicco sulla freccia. Dove vai? Vai, vai, vai. Inizia a venire verso di me, veloce, veloce, veloce. Clicca sulla porta. Clicca sulla porta. Vai, ferma. Tac. Adesso ci vuole calma e pazienza. Bisogna un attimo guardare quando i draghi vanno. Ok. L'è il prossimo, è qua, ok. Diciamo che il trucco spesso e volentieri è quello di muoversi e vedere come va la situazione. Vai, vai, clicca la porta, clicca la porta. Beh, questo è il primo. Oddio, torna indietro, torna indietro e risalici. Perché? Eh, perché sei venuta troppo veloce. Ho un'altro, cioè il Wired non ti ha riconosciuto. Dio! Tranquilo, adesso. Vabbè, comunque è figo. Sì, ma c'hai tutti i cosi del gelato, i draghi. Quanto valeva sto drago, madonna. Il dragone di bronzo. Chi è? 3.500. Minchia. Madonna. Adesso c'è gente a reddere le caselle e altri che stanno facendo il labirinto. Ma di quelli che ti seguono, pochi sono online su hub, vero? Sì, avevo fatto un mini... Molti che manco conoscono hub o calcolo, quindi... Allora... Gioco antico. Dovresti spiegarglielo un pochino. Cioè... È questo gioco un po' la storia, secondo me. Perché sono morta adesso, scusami. Guarda, io... Aspetta, ma in tutto questo io non sono iscritto a Twitch, non capisco. Aspetta che mi iscrivo a Twitch. Abbo non va a spiegare, sì, in effetti è una chat e robe. Allora, vediamo se riesco. Ma poi il bello è che mi dice che io ce l'ho... Che esiste... Cioè, io mi sono iscritto a Twitch in passato, solo che non mi ricordo i dati. Eh, tipico. Draghi di merda. Vediamo. Tanto tutto il tempo, prima che tu finisci la stanza... No, non penso che la finirò mai. Ma no, dai, devi credere in te stesso. Ci sono tanti livelli carini. Ok. Andiamo a vendare il suo fiano meico. Sabacuno abbo. Vendo tutto, divento ricco. Vai a vedere se ho fornirari nella mia mansarda. Andiamo da Franzo, raga. Franzo, come si chiamava la tua stanza? Franzo, devi sapere, era un moderatore. Tipo del 2007. Ma chi era un moderatore? Franzo. Ragazzo che sta in chat. E come si chiama, scusa? Franzo. Come si chiamava? Franzo. Mai sentito come moderatore? Eh, ma infatti l'ha detto dell'inizio proprio. Cos'è che hai detto, Franzo? La mansarda? Non so se la trovo, scusa. Del Franz, questa? Vado a vedere. Andiamo a vedere. Ma adesso sono tutte le robe HC, Franzo. Chi vuoi prendere per il culo? Franzo, ce l'ho anche io, ste robe. Voglio questa è la cosa. Vuoi tirare fuori Big Money. Ora vediamo, andiamo a vedere. Misterio sortifatto. Vabbè. Valore complessivo room sotto i 100. No, scherzo. Dai, ci sono i sofà. I sofà valgono. I sofà. I sofà si danno sui 75 l'1, mi sembra. C'è pure il coso, il teletrasporto dove va? Il duce, ciao amici. Ma qua c'è tutte le robe HC, sì, me le ricordo. Vabbè, se qua c'è il duce abbiamo risvoltato la live, signori. Top. Allora. Il tuo cane sta morendo di fame. Oggi, ma qua c'è un dragoro. Ah, ma non è suo. Chi è sto profeta? Il profeta. Franzo, chi è il profeta? Se volesse, tipo, questo può venderselo tipo 100 euro, il dragoro, capito? Eh, non entra più da 29 mesi. Sì, no, lo so. E c'era anche un moderatore, mi sa, c'ha la spilletta. La spilletta. Qua la spilletta? E se vai sul profeta, c'ha sta spilletta con un coso. Oddio, penso che sia semplicemente un beige. Non è che necessariamente. Anzi, se guardi l'unico gruppo che ha il profeta, non so se l'hai notato, è una delle mie sale punti. Loll. Sì, la mia fama qui è devastante. Non c'era tutta la merda che c'è ora. E, Franzo, di che anno parliamo, Franzo? Massima ricchezza concepita. Se vuoi vedere un po' la storia di Abbo. Cioè, io c'ho tutto un museo che fa vedere tutti i furni in ordine di uscita. Che figo. Come ti trovo, aspetta. Basta che cerchi tipo museo e ci si può visitare insieme a... Museo. Vediamo. Non tengo nessuna... Ah, perché è in eventi? Museo. Ho detto che... È entrata a museo. Yes. Devo vedere. Aiuto, non do la quanta roba. Uh, dio. Sta laggando a caricare. Che figo. Ah, si doveva in altezza. Ebbè, sì. Questa è solo l'entrata, eh. Comunque. Loll. Sì, ci sono un po' di wired, eccetera. Beh, ha fatto le guerre. Le guerre. Stai in necrofilo, ti invita sul museo, che fai rifiuti? Ebbè, mi sembra normale. Te ne privi? Che fai? Certo che non te ne privi. Loll. E dove si entra, scusa? Dove sono le cose? Ah, nelle porte? Ah, sì. Allora, in pratica, intanto questa è l'entrata. Magari diamo a tutti il tempo di trovare la stanza. Cercate museo. Venite al museo. Non c'erano di 2003 fino all'inizio del 2005. Ah, ok. Ci facciamo un giro. Come posso linkare la tua live? Che magari la metto nelle mie storie anche su Instagram, eccetera. Non so se si può fare. Sì, basta che prendi il link. Ma l'urlo sopra con shiftimine. È twitch.tv slash shiftimine. Shiftimine? Sì, mi fai dare i piedini. Sì, come è scritto su Twitch, appunto. Hai il board di Stacat. Bello, bello. Vabbè, comunque. Allora, giusto un attimo che magari mando il link. Che tanto c'ho tipo un paio di... Sono in diretta su Twitch. Devo fare qualcosa che non sia amore. Interessare le persone a venire con una tentona. Vai, così almeno vengono subito. Ok. Vediamo. Ma mi dici quali anni hai. Perché ti interessa la mia età, perdonami? Prima mi hai chiesto un po' informazioni. Andiamo. Ah, lo sapete che potete entrare. Doppio clic sulla porta. Eh, devo ritrarla mocca, amore, oggi. Alle giovedì. Dalle 16. Ma io, per te, non capisco. Che è sta roba? Ma chi è Marcus Cron? Mi sono perso. È il mio compagno. Ok. Cioè, sì, valutando che io ho un account Instagram. Chi è che parla? Mi sono perso. Hai, sei molto seguito? Diciamo, vabbè, su Abbo sì. C'ho tipo, vabbè, due mie iscritti su YouTube e un po' di più. E poi c'è, vabbè, la gente che mi segue su Instagram, eccetera, le storie, Whatsapp, eccetera. Nulla. Comunque, non correre troppo veloce, che sennò ci si perde fra le varie room. Ah, che cazzo, ah, mi ha aperto la home di Twitch. Ora, aspetta che sto mandando un po' di link, vediamo se riesco a portare un po' di utienza. Aspetta, sono su Twitch, in diretta. Te quanti hai, ci si può iscrivere a Twitch? Come funziona? Sì, ci sono i sub, che sono iscritti paganti, e ci sono i follower, che sono invece i follower, appunto. Non l'avrei mai detto. Niente. E ok, e quanti ne hai di ciascuno? Cioè, non so se si può dire. Eh, su Twitch sono 60.000, su Instagram sono 61.000, e YouTube non lo utilizzo attualmente, ma Manfredini ha 300.000. Ah, interessante. Aspetta che cerco di portarti un po' di gente in questa diretta, eh. Perché Google sta parlando? Google sta parlando? Dove sei in tutto questo? Eh, lolloquattrocast. Eh, ragazzi, una cosa, se volete, perché mi stanno scrivendo tanti in sussurra, dato che sto parlando in questa chat. Dove sei, in che room sei arrivata? Eh, quella con i tappeti. Ok, rallenta, e aspetta un attimo che si arriva a tutti. Volevo dire che per quanto mi stanno chiedendo, tipo, la compravendita di crediti rari, eccetera, se volete informarvi su questo, non posso rispondervi su Abbo, perché sennò bannano sia me che voi. Quindi, se volete, mi scrivete su Telegram, Astinabbo, e se ne parla lì, ok? Questa sì, è una stanza un po' squallida, diciamo. Però, diciamo che ogni room è per una categoria di furni. Se vedi, tipo, nel nome stanza, c'è, tipo, tappeti e bandiere, 2003, vedi, sono proprio in ordine di uscita le cose. Ah, ok, sì. Quindi nel 2003 sono uscite la maggior parte. Eh, quant'è di Abbo, madonna. Sì, 2003 è quello, mi sembra che sia, almeno quello italiano, eccetera. Ah, possiamo andare. Però andiamo lentamente, in maniera che tutti possano starci dietro. Abbiamo i cosi. Gli alberi vari. Avellini, ma che c'è sta gente? Aiuto. Vediamo se qualcuno in diretta su Twitch ci... Com'è che si chiama su Telegram? Non riesco a scrivere, se... Puoi scrivere nella... Nella chat di Twitch che se vogliono comprare crediti o rari scrivano Astinabbo, per piacere, perché... Questi mi continuano a scrivere. Hanno sentito, Sciallo. Sei in diretta anche tu. Mi ha scritto, tipo, com'è che si chiama su Telegram, tipo, due secondi fa. Cioè, vedo la chat, ma non posso rispondere. Comunque, quante gente c'è? Lol. Già un po' riempiamo la room. Ok, andiamo alla nuova stanza. Vai. Ah, questo è il bagno. Se può interessarti fare una doccia. Bello. Avete le docce? Sì, anche al duce di prima piacciono, secondo me. Comunque, vedo, è anche la sedia da gamer. Fai la... La prod, insomma. Eh, sì. Stiamo aumentando. Cringe. È bannabile. Che è sta roba? Hai i teletrasporti. Ah, beh, sì. La stanza dopo è molto, molto bella. È, diciamo, la collezione di tutti i teletrasporti esistenti su abbo.it. Madonna, quanta roba. Figo. Se vuoi provane pure un po'. Teletrasporti. Mi diste ancora abbo? È quanto pare. Sì. È bene, sì. Ah, quelli casuali magari non li provate perché finite tipo in ovo. Che trentamilano euro di furbi ha truffato per trentamilano, kappa. Cosa? Che senso trentamilano? Eh, trentamila voleva dire trentamila. Questa comunque sono delle robe di stand bannato, c'è su cose tue. Sì, diciamo che le stanze del museo, ti spiego, il motivo è che in pratica, non so se lo sai, per i normali utenti hai il limite di cinquanta stanze. Ah, qua c'è quell'hc che immagino ti piace. Se tu hai più stanze, ti ha dato un riconoscimento? No, in pratica, cioè, comunque se sei hc puoi farne fino a cento. Il problema qual è? È che io avevo comunque superato le cento stanze su stenne, quindi non potevo più crearne di nuove. C'è solo una maniera per avere più di cento stanze, ossia comprare gli affari stanze. Però, insomma, se compri un affare stanze di solito lo usi, cioè non è che lo picolli, capito? Cioè picollare significa prendere in mano tutti i formi. E quindi nulla, sono stato costretto a fare le stanze sul secondo account, che per fortuna è stata una benedizione, perché appunto... Eh, te li sei ritrovati. Esatto. Tipo il museo dei look, che ci sarà più avanti, è particolare perché in pratica i look costano poco quando li mettono, ma poi sono saliti molti di prezzo. Tipo una corona che avevo pagato più o meno due euro, poi l'ho rivenduta a 260 euro, per dirti, qualche giorno fa. Quindi sì, diciamo che abbo per... C'è gente che ancora comunque acquista costruiti reali. Sì, sì, io comunque gestisco una cosa che si chiama security shop, ossia aiuto le persone a compre e vendere crediti e rari. C'è questo, c'è il cibo, buono. Che cos'era questa roba? Non l'ho mai... Quando è che l'hanno fatto? Allora, Pasqua effettivamente è la prima volta che è apparsa è stato nel 2003, però diciamo che questa sezione Candy credo che sia del 2015. Ora, comunque te lo dico subito. Candy, Pasqua. Allora, un po' quanto c'è Wingham? Sì, 2015. Devo un po' false. Che è il maniaco che spende soldi e ti finiscono che su Apo? E c'è gente invece, raga. Vi assicuro che, guardate, io ho comunque transizioni sulla Postpay riguardo Apo e mi girano veramente tanti 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 soldi. Cioè, ma anche quando arbitro al poker, se vi dico, metti caso che ci sono state partite dove c'erano puntati veramente in crediti e in rari veramente tanti soldi. A un certo punto uno mi fa, guarda, non ho più crediti per ripuntare e mi ha inviato tipo così a botta a mille euro. Cioè, capito? E si sono giocati euro su Apo. Euro, eccetera, capito? Quindi a poker, anziché usare Pokestars, potete usare Apo. Se vi può interessare, ovviamente. Chiedi se paga le tasse. No, faccio come, insomma, le campgirl che non pagano le tasse. Mi dispiace. Io no, sì, euro per Netflix. Ah, peraltro, è stato riferito oggi che Netflix è stato aumentato di prezzo, non so se lo sapete. Informiamo i telespettatori. Ah, sì, scusa, non puoi non parlare anche qui di poker e con paniché anche a Twitch, non sta a genio. Ah, sì? Grazie. Ok. Vabbè, comunque, insomma, anche su Apo adesso non si può fare, quindi... Riprovi. Perché servono 18 anni di età, capito? Quindi è per questo che hanno fatto tutta sta storia. Questa è la sezione Apo win. Cos'è? Canta roba? Ah, davvero, eh? Miliardi di... Vabbè, che bello questo. Le cose... Ma ti tienilo zoom... Alt? Cioè, perché non si vede mai... Zoom. Bene, la stanza nella diretta. Eh, forse perché devi tenere lo schermo più piccolo. Sì, c'ho lo... No, c'ho finestra piccola e una schermo integro perché ho tutto VS e cose. In alto a sinistra c'è tipo scritto DRIO91FOLLOW. Che vuol dire? Cioè, in alto a sinistra vedo i tuoi... Ah, sono gli ultimi eventi, quelli. Della live. Ah, ok. Non si followa, si suba. Credo che sia un mio amico... Credo che sia un mio amico. Adriano. Ok, ciao. Ha lo stesso nome su Instagram, quindi... Immagino sia lui. Ok, se vuoi cambiamo rum. Bella. Quello che ti ha addosito lo Smurfs è fighissimo. Andiamo avanti. Qua se c'è cos'è? 310. Natale. Ah, ok. Che è 310? What the fuck? Cosa? Natale 310. Ah, in pratica sta a definire in pratica dallo 03 al 2010. Cioè, più o meno... Di furni natalizia. Perché non hanno fatto ogni anno una sezione natalizia. Cioè, diciamo che dal 2012, tipo, di solito, mettevano determinate cose particolari. Cioè, ogni anno hanno iniziato a mettere sempre più furni. Ma fino al 2010, cioè, le sezioni che uscivano erano poche. Poi hanno iniziato a puntare tanto sul guadagno. Perché ovviamente, essendo diminuita l'utenza, cercano di spolpare di più dalle persone. Giustamente. Questo un po'. Qui c'è la room dei trofei, con alcuni trofei. Qualcuno magari te lo ricordi. Sì, sì. Ah, non so se ti ricordi. Questo era il Niko, che era un gioco che si poteva scaricare, tipo, su tablet, eccetera. L'ho scaricato, sto coso. Io non ci riuscivo minimamente a giocare, ero un po' impedito. E poi c'era pure un altro, che si chiamava Lost Monkey. Non so se te lo ricordi. No, non mi ricordo. Forse, ma non mi rimembro attualmente. E niente, c'era questa scimmietta. In pratica, te dovevi far fare cose a sta scimmietta. Io mi ricordo, tipo, una certa misura, una specie di robo del fast food. Che c'era, tipo, dei robi che pioivano dal cielo. Ah, sì, sì. Erano i minigame. Era su hub, sì, infatti. Erano vari minigame, che purtroppo poi sono stati tolti. Ah, poi erano carine. Sì, diciamo che in pratica dovevano pagare un server dedicato. E fu una cosa particolare, perché c'erano... Ciao Danic! Ah, credo che non sia più della Sulac, in realtà hub, però va bene. Ah no? Ha venduto? No, dovrebbero aver venduto. Ora non mi ricordo mai. Cos'è sto coso? I pinguini? Vedete c'è un pinguino pixelato. I pinguini, non so se lo sai, erano usciti, mi sembra, nel Natale del 2008. Furni non scambiabili, molto molto particolari. Gli unici scambiabili sono questi quattro, che erano usciti dalle uova di Pasqua, un tempo dietro. Quelle che si erano viste prima. Poi c'è la collezione degli anatroccoli sotto. Perché c'è Kung Fu Panda lì dietro? Che cazzo? È perché, diciamo che fa parte dei furni non scambiabili. Cioè qua ho quattro vedico. Ah ok, si è proprio tutto categorizzato proprio. Sì, abbastanza. Ne ho tantissimi di pinguini. E niente, quindi questo è. Andiamo avanti, andiamo. Quante stanze sono, madonna? Infinite stanze! Eh sì, lo so, lo so. Ah, questa è molto molto carina, diciamo. C'è per i colori, eccetera. Utdio, quanta roba! Intanto ci ti dico, c'è la collezione dei roller, fra cui il roller acqua, che è uno dei più introvabili. Ma perché erano i roller questi qua? I tappetini? I roller sono quelli. Cioè sì, aspetta che ti apro così ti darò il privilegio di poter camminare sui roller. Sì, i tappetini. Ne ho qualcuno di cui li da qualche parte. Russi, credo. Niente, questi servono per chi non conoscesse Abbo. Ad esempio, ci creavi le file per i giochi, in maniera che anche le persone, vedi, anche se sono assenti, scorrevano. E quindi nulla. Poi, queste sono le sedi gonfiabili che avevano un valore un'epoca. Poi sono state un po' tipo regalate. Queste transenne erano... Qualcuna era stata messa inizialmente. Ah, ti ricordi tutto proprio, mamma mia. Vabbè, diciamo che lo gestisco, sto museo. Tipo, vedi, la celeste, la foglia tè. Queste due principalmente si trovavano dentro gli screen. Cos'è questo sacco da box? Bello. Il sacco da box ce ne sono di quattro tipi. Io ne ho solo tre, purtroppo, perché l'unico che mi manca è quello verde. Ce l'ha solamente, credo, Eleonora Porta, che l'ha vinto in una competizione. La maggior parte delle altre cose sono, diciamo, dei furni che si trovano dentro questi sacchi, vedi, che si chiamano sacchi bonus. Oddio, cosa cazzo ho fatto? No! L'ho aperto! Cosa è successo? Porca troia! Ma che hai fatto? No, hai aperto un regalo. E ho aperto un sacco bonus, che è un bel problema. Ora non so se si ritrova sto sacco. No, che sfida. Cioè, hai aperto cose, non ho capito, il sacco questi qua? Ah, e che sono quelli, scusa? E niente, non so perché adesso il mio mouse ha questa bella idea di fare dei doppi click, anziché dei click normali. E quindi nulla, in pratica, cioè, come furno, ci tenevo ad avere il sacco bonus, invece, niente, ho fatto una cazzata e ci ho fatto un doppio click e quindi l'ho aperto perché sono il proprietario. Vabbè, spero di trovarlo in mercatino perché si chiama... Oh, vabbè. Ripo il sacco, è finciato. Ripo lo stipendio di quattro mesi. No, vabbè, non varrà 10 crediti, solo che magari non si trova tutto lì. Oh, questi qua sono quelli che piacevano a me. I miei giochi marci, proprio. Bello questo dei colori. Allora, tu entravi qui, no? Banzai. Devi colorare le caselle, raga. Cioè, questo qua era il mio preferito. Guarda, ti avvio il time. Vai, vado a colorare le caselle. Sì. Alle tre meno un quarto andiamo, Chiara, sì. Scusa, mia sorella che mi ricorda che devo poi accompagnarla a danza. Se monti qua, non so se ci puoi andare o no. Mi fa andare, l'ha bloccato. Probabilmente ho messo in altro delle... Vedi, se guardi in altro ci sono le paperelle. Ah, ok. Ah, giusto, che ti bloccavano gli accessi. I trucchi. Questo stile mette un sacco di soggezione. Ma no, dai. Perché è necrofilo o per cosa? Vabbè, anche quello. Però dai, sono fidanzato. La mia ragazza sta nel cimitero lì. Ah, no, volevo dire. Un saluto alla mia ragazza se mi sta seguendo o non lo so. Nel caso mi steste seguendo saluto tutta Pisa, i giochi da tavolo e il trekking, che sono due gruppi che gestisco zona Pisa. Come esco da questa cosa? Non mi fa più togliere il banzai. Vabbè, non ti preoccupare, basta che bella la stanza successiva e te lo faccio. Ok, andiamo a stanza successiva. Vediamo. Ah, andiamo. Ah, non è questa, dov'è? Oddio. Ah, è questa di qua che è in fondo, un figa, me l'ho persa. Come si esce da questa live? Che cringiata, zi. Viva Pisa. Chi ha scritto? Veniamo? Viva Pisa. Ah, ok. Qua è il 2006, ci sono i percucciole. Ma dove, quanta roba? Ah, sì, tutto il cibo, le torte, le casette, le solite robe. Esatto, prima tu una cosa che non riuscivi a fare era togliere l'impostazione che la gente posasse. No, non l'ho trovata poi, sì, sì. Ok, no, infatti c'era tipo uno spam assurdo nella Roma. Sì, troppi cani, gatti. Le piantine ci sono ancora da qualche parte? Le piante tipo da incrociare? No, proprio che erano tipo animali, cioè quelle erano tipo le coccole. Sono molte tutte, ma è quella. Sono quelle, comunque sì, cioè devono essere curate e le puoi incrociare. Cos'è? Ah, questa era quella collezione strana. Non so se lo sai, c'erano tipo, ci sono ancora i traguardi riguardo quelle piante, in base a quanti incroci facevi, semi persi, eccetera. E si era scoperto un bug assurdo, che in pratica era l'unica maniera effettiva di generare furni. Cioè in pratica ti incrociavi le piante, no? Sì. Che succedeva? Succedeva che in pratica tipo il primo mandava la richiesta al secondo, che nel frattempo aveva inviato la richiesta al terzo. Insomma succedeva che da due incroci si creavano tre semi. E in questa maniera noi avevamo generato tipo migliaia di semi che poi abbiamo venduto e ci si sono fatti un sacco di soldi. Un trucco che conoscevamo in pochi e che ovviamente non avevamo diffuso per evitare che si scoprisse. Poi l'hanno tolto. Non so se la sognano la notte. Pensa a sta room, quanti cazzo di colori, quanti soldi. Eh, immagino. Non so se lo sai, ma tipo, tanto tempo fa Abbo a Natale regalava cinque crediti tutti i Natali, no? Non so se te, in che anno ti sei scritta da Abbo. Questo canto è il 2011, però la prima volta penso di essere entrata il 2009, credo. Ma neanche mi hai in lista, brutta stronza. Eh, no, dovrei avere il tuo personaggio o l'altro, credo. Non lo so. Ah, ma perché non sei HC, quindi non puoi accettarmi. No, c'ho tutto pieno. Che merda. E ora che tolgo quelli vecchi ci metto vent'anni, figa. Sì, no, no, tranquilla. Io di solito quando elimino le persone vado su Amici Offline e poi clicco profilo per profilo e guardo da quanto non si connettono per fare le pulizie. Pulizia contatti. Bella questa stanza. Cina. Sì, vedi, questo è tutto per festeggiare. C'è il sushi qui. Sì, questo ce l'ho anch'io, questo coso, mi ricordo. Questo coso. Il pesce non te lo dà il tuo ragazzo, c'è bisogno del sushi, comunque. Ma ne kineko. Non so se è presente questo gatto con... Vale più di 200 credit, te lo paga tipo 50. Ah, la kineko. Bello. Eh, è carino. Allora. Vediamo la prossima stanza. Next room. Oh mamma. Questa è la sezione class. Una sezione old di cui purtroppo non si trovano i pezzi. Anzi, se qualcuno per caso della live si è ritrovato a loggare e ha trovato dei pezzi rari, magari che appunto, magari non valgono neanche tanto, ma sono piuttosto introvabili, ditemelo che ve li compro. Ah, i tavoli. Sì, vedi, da giù manca una panchina, mancano un po' di colori. Sono abbastanza difficili da trovare. E Euthanasia sta live. Ragazzi, se volete veramente vedere il trash, se andate su YouTube e cercate i balli di abbo nella vita reale, troverete io con una ragazza che facciamo i balli di abbo. Oddio, non voglio... C'ho molta paura, sinceramente. No, vabbè, dai, tranquilli. Lei almeno balla bene, io... Cioè, tipo, questi balli qui, immaginatevi li fatti in reale. Io volevo andarci, tipo, a fare un raduno in una discoteca reale. Ah, i furni di prima, comunque, erano ecotroni. In pratica si prendevano riciclando. Boh, ma io, sai, io ho incontrato veramente tante persone di abbo nella realtà. Poi non so a te se ti è mai capitato, se avevi conosciuto persone o meno. No, io andavo su abbo con un mio amico e si fingeva donna e rimorchiava gente. E basta. Questo sono i miei ricordi di abbo. No, io diciamo che la prima cosa che appunto feci fu... Era le medie, mi appassionai a sti labirinti e così decisi poi di crearne uno. Pure io. Poi, insomma, sono successe cose. Questa stanza non è mia, ed è la collezione delle tracks di Corvo Nero, ed è l'unico, credo, che abbia la collezione completa e, peraltro, tenuta molto bene. Quelle tre tracks sui tavolini sono le più rare. Di qualcuna ne esistono solo cinque copie. Ah, minchia. No, no. Più o meno valore stanza circa cinque metri. Eh, mi ricordo sto Corvo Nero, se è pure lui, cioè, non so. La gente è vissuta su Windows e si vede che non so. Mi scrive su WhatsApp, mi scrivono dei miei amici su WhatsApp, ma provaci, no. A parte che siamo entrambi fidanzati, poi, insomma, non è HC, quindi non è mio interesse provarci con la ragazza. No, no, sono un abba. Eh, con i nabbi... Mi dispiace. Sono felicemente fidanzati. Sotto i 20k di punteggio non è... Cos'è? Ah, i cosi del piano. Oddio, c'è Emax? Sto sentendo il cringio di Emax, mamma mia. Nuovo titolo, abbo è slop, abbo è life, abbo è steen. Steen, ma tu lo fai per il grano e il grano a farlo per te. Un pazzo furioso. E io diciamo che ci si fa soldi con abbo. Effettivamente, però, io posso far... Cioè, non è una cosa da tutti, nel senso, devi avere una determinata fama. Quando ce l'hai e le persone si fidano di te, dopo che, insomma, giochi da tanti tanti anni, le persone, appunto, capito, quando devono comprare, scommettere, eccetera, che ricorda, è illegale, non fatelo, oppure sì. Io non sono nessuno, per dirvelo. Vanno da me, sì, capito, quindi... A volte non vendo neanche roba mia, ma mi prendo un 10% sulle commissioni di tutto quel che... Che accade? A ASMR. Ad Ara, se stai ascoltando questa conversazione, che è il lab, hotel manager, io non sto più vendendo assolutamente nulla, quindi non mi vanno... Perché lei ci segue. Come su The Wolf of the Street. A cosa per il cinema. A proposito, io non ho finito di vedere quel film, perché non mi aspettavo che finisse male, quindi non lo voglio finire di vedere. Non mi spoilerate, The Wolf of the Street. Poi, nemmeno me inizia a fare schifo. No, perché? Che ha fatto? Tengo tutti in antipatia, Stin. Perché... Eh, ma che ci posso fare? Eh, i fan sono in video di diretta, capisco, però... Tanto io faccio solamente le dirette su hub, o fa qualsiasi altro gioco. A parte che mi ha, tipo, mi ha crashato il gioco. Devo rilogare. Bene. Comunque è stato molto intenso, devo dire. Visto che le fasi sono 100.000, direi che... A Cagnano è stato molto bello. Molto intenso. E... Executive. Bella. Questa che non è? Sono... Se vedi il nome è Stanza. Sì. Finalmente una buona. Questi sono i furni più utilizzati dalle... Erano i più utilizzati dalle basi. Non so se... Sì, sì, mi ricordo. C'è tipo mafiosi, eccetera. Sì, sì. Io feci anche delle collaborazioni, tipo, con la Sant'Antonio di The Mr. Bellic, che era una base abbastanza famosa. Non so se te cosa ti ricordi dell'epoca. Sì, no, ho qualche ricordo, però... Niente di che. Va bene. Che che è questo? Che sei tu da gatto? Ho un singolo desiderio. Mamma mia, che disagio. Ecco, qui questo mi scrive. Minchia, io con Steam ci giocavo. Ciao, Pep. Che ricordi Abbo mi ha aperto una parte della memoria che credevo morta. Ma il bello di Abbo, te non so se lo sai, ma è proprio i personaggi. Cioè, ci sono state delle storie che sono veramente particolari. Tipo? Cioè, tipo... Allora, a parte che c'era una tizia, vabbè, al solito quelle che si fingevano uomini, eccetera. Ah beh, classico. Però c'era, tipo, c'è stata la storia di NRY, che era una truffa spettacolare. In pratica, presente le tracks che ti dicevo prima? Mhm. Ecco, in pratica, alcune valgono effettivamente tanto, però quasi nessuno sa i prezzi delle singole tracks, no? Mhm. E che succedeva? Che questo tipo entrava sul gioco con un account e diceva, tipo, e io è da tanto che non gioco, quanto valgono queste cose? E tipo, ti faceva vedere dei rari, un drago blu che ti valeva 200 crediti e poi questa tracks, che in realtà questa tracks valeva tipo 5, no? Non valeva un cazzo. Dopodiché, entrava con un altro account, dopo tipo 5 minuti nella stessa stanza, e chiedeva se per caso, al proprietario della stanza gli chiedeva, senti, ma te per caso vendi questa tracks qua, offro 5.000 crediti. A quel punto che succedeva, che il proprietario della stanza dice, cazzo, ma io faccio un affare, compro una cosa tipo a 500 e la rivendo a 5.000, cioè dici, cazzo, ci ho fatto l'affare della mia vita. E poi in realtà, ovviamente, era lo stesso personaggio che ti stava truffando. Non so se hai capito il discorso, in pratica, ti vendeva una ciofecata, spacciandotela per un rarone, puntando sul fatto che tu voglia guadagnarci. Questa era tipo la truffa di NRY, famosa, eccetera. No, io non stavo in questi ambienti, io... No, vabbè, ce ne sono tante, e basta. Di cose, tipo... Non so se ti interessa tipo gossip o cose strane. Non so che tipo sei. No, no, non mi interessa. Vabbè. Comunque, io mi ho fatto molto piacere di vedere il tutto abbo. Va benissimo, dai. Molto intenso. Se torni, fatti viva. Va bene. Tanto non saprò usare il discorso, quindi non so come contattarti. Nel caso, fatti viva te. Mi trovate, se volete, su tutti i social come Stinabbo, e niente. Da YouTube a Instagram. Buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. Lo devo espellere. Oddio, come faccio a toglierlo? Espelli. Ti devo espellere, scusami, perché non so come toglierti dalla stanza. È... È stata un'esperienza mistica. Le mie orecchie. Ho fatto spamma per due ore. Ma sì, dai. Lui è famoso, amore. Cioè, lui... Cioè, ha raccontato i segreti di abbo. È stato molto intenso. Ho finito il mio te. Chiudi la live, stacca, stacca. Non so più neanche una goccia. E cancella il VOD. Mamma mia. Ma sì, Sandro è famoso. Lui...